Quindi vorrei dire a tutti quanti voi che giustamente oggi delineate uno scenario di quello che è stato il primo tempo, che questo primo tempo va visto sotto tutte e due le luci, sicuramente quello che è il risultato della candidata a Movimento 5 Stelle, ma anche quello che è il risultato che abbiamo avuto noi partendo da una condizione che non solo tutti voi conoscevate ma che tutti voi avete descritto spesso e volentieri come proibitiva, ce l'abbiamo fatta e adesso parte la seconda parte e appunto proprio per questo io vi dico subito che mi rivolgerò a tutti i romani, io parlerò a tutti i romani, io spero di essere giudicato e votato il 19 giugno per le proposte che faccio per la città, per i tram, per la polizia, per tutte le varie idee e proposte che ho messo in campo e mi auguro che questo sarà possibile farlo, poi decideranno ovviamente i cittadini, comparando quelle che sono su ciascun tema le mie idee, le mie proposte, anche il mio programma, che magari qualcuno di voi giustamente ha lamentato sia arrivato un po' tardi, però adesso è sul sito, lo potete vedere e potete subito vedere che non sono idee arruffate, ma sono un vero e autentico programma di governo di questa città e che io sono convinto, sono sicuro che metteremo in pratica.